Conosciamo insieme Marco Albertoni, nuovo portiere rossazzurro da tre settimane a Catania, con quali sensazioni? Le sensazioni sono ottime, ho iniziato a conoscere la squadra, una squadra che dà ottime sensazioni perché è squadra forte, è un bel gruppo e secondo me faremo dei buoni risultati. Conoscevi già qualcuno dei nuovi compagni? Ho giocato con Silvestri alla spalla e Zammarini a Mantova e conoscevo loro due. Ti hanno aiutato chiaramente nel processo di ambientamento? Sì, poi sono tutti ragazzi fantastici, mi hanno messo subito nelle condizioni di poter ambientarmi subito e nel migliore dei modi. Per te Marco, 89 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali e 20 clean sheet, però non avevi ancora vissuto il girone C del campionato di terza serie. Cosa stai osservando? Sì, è la prima volta che partecipo al girone C, mi hanno sempre detto che è un girone forse piuttosto della Lega Pro e queste tre partite lo stanno dimostrando perché ogni partita è a sé, contro ottime squadre, non puoi mai dare nulla per scontato. Colpo d'occhio del Massimino? Stadio che in serie C secondo me quasi nessuno può avere, dà una sensazione stupenda, comunque sia 14.000 o 14.000 abbonati non sono da tutti i giorni. Torniamo a te e alla tua esperienza nel settore giovanile del Genoa, c'è qualcosa che ricordi con particolare piacere? Piacere sicuramente, ricordo uno dei miei primi ritiri con la prima squadra dove c'era anche Perin, dove ho avuto l'occasione di poter rubare qualcosa da lui e osservarlo da vicino ed è stata una bella esperienza. Qual è in questo momento il morale del Catania? Il morale sicuramente è sempre positivo perché ogni partita si può fare risultato e sono convinto che domenica andremo in campo con lo spirito giusto e tireremo fuori un risultato positivo.